Buongiorno a tutti, buongiorno mister, seconda tappa, seconda trasferta, la partita credo con più ex dentro, le chiedo se questo alla fine dell'economia della testa dei giocatori può contare, a me sembra relativamente, però dica lei, soprattutto forse uno degli ex più attesi di questa partita, mi chiede Marconi, come sta? Innanzitutto ci dispiace oggi preparare una partita di nuovo in trasferta perché in un calendario normale avremmo dovuto giocarla in casa, ma per vicissitudini di organizzazione a livello di stadio non la giocheremo al Moccagatta e detto questo per quanto riguarda gli ex come sempre sarà sicuramente una partita particolare per chi la deve giocare, però allo stesso tempo una volta fischiato l'inizio credo che non ci sarà spazio più per nessun tipo di distrazione o quant'altro perché ci si focalizzerà esclusivamente sulla propria squadra e sui colori per cui oggi si dà il 110%, quindi credo che sull'economia della partita non influirà. Una domanda di Fabrizio Pozzi, quali sono le condizioni di Milanese e quali pospettive ci sono per lui? Milanese è arrivato oggi, in questo momento sta svolgendo una sgambata per recuperare dal viaggio fatto, domani mattina farà la rifinitura con la squadra e valuteremo insieme quelle che sono le sue condizioni per capire in che modo sarà a disposizione, dove lo sarà sicuramente per Pisa. Raimondo, prego. No, non ti sentiamo. Passo a Mario e se vuoi tu scrivila. Buongiorno mister, la partita sia di Coppa Italia contro la Sampdoria che poi quella di Benevento ha dimostrato che l'Alessania è una squadra che sa imporsi, sa replicare quando va sotto, sa pericoltare nel finale gli avversari, però sembra fatire, questo credo lo chiedo a lei, il ritmo di queste categorie che sono diverse dalla Serie B come d'altronde anche la Serie A, lei lo sa benissimo. Il ritmo e la fisicità degli avversari, crede appunto che questo sia appunto uno scoglio da superare per questa resta, perché sembra che ci avessi difficoltà da prima. Innanzitutto la nostra volontà è quella di andare a imporre il nostro modo di giocare, la nostra mentalità, la nostra filosofia su qualsiasi campo, quindi ai ragazzi chiedo sempre coraggio, chiedo sempre determinazione, chiedo sempre la voglia anche di saper osare contro qualsiasi tipo di avversario. È normale che lo scotto della categoria c'è, è in dubbio, perché affrontiamo giocatori che sono sicuramente rispetto alla Serie C su tutti i parametri più di alto livello, quindi non solo l'aspetto fisico, quindi parliamo di forza, velocità, strutture, ma anche di tecnica, di velocità di pensiero, quindi questo sicuramente è lo scoglio più grosso da superare nella categoria dove bisognerà abituarsi a confrontarsi con questo livello che sarà alto in tutte le partite, anche se in queste partite qua abbiamo incontrato, stiamo parlando di una squadra di Serie A come la Sampdoria e possiamo dire anche una squadra di Serie B ma che l'anno scorso giocava in Serie A come il Benevento, quindi a maggior ragione sono state due squadre di livello top in maniera assoluta. Adesso andiamo a Pisa che comunque sarà una squadra molto molto ostica da superare perché oramai è in pianta stabile da qualche anno nella categoria, quindi hanno già giocatori rodati e affermati nella categoria, noi in questo con tanti dei giocatori nostri dobbiamo avere la capacità, la velocità e la prontezza di fare questo percorso il più brevemente possibile. Allora Raimondo Bonone le chiede, punterà sul 12 di domenica o vedremo Celesia in difesa con parole esterne e lo stacchi in attacco? Beh è un'opzione quella di Celesia, così come recuperando Mantovani abbiamo anche Mantovani a disposizione, quindi dietro avremo poi Presti e Bellodi che sono fuori, che sono out, però recuperiamo Mantovani e recuperiamo anche Lunetta. Di conseguenza valuteremo adesso, visto che sono rientrati in gruppo, insieme allo staff per capire chi di loro ci potrà dare più garanzie naturalmente insieme a quelli che hanno già giocato a Benevento. Altre domande? Minima, prego. Ho cominciato a parlare di un Pisa comunque rodante nella categoria o un Pisa molto solido in cui è una squadra che in cosa il Pisa è meno vulnerabile o è più vulnerabile secondo della sua coltezione? Ma io credo che il Pisa sia squadra ben organizzata con qualche valore anche importante nei singoli, ha caratteristiche complete per quelle che sono la caratteristica del campionato perché ha giocatori abili nell'uno contro uno come possono essere Marsura e Sibilli, allo stesso tempo ha un centrocampo comunque fatto sia di tecnica che di qualità perché Marine, Gucker e Touret si complementano nelle proprie caratteristiche, quindi una squadra che direi completa, che ha avuto la possibilità anche negli anni di strutturarsi. Adesso ha messo dentro un giovane di grandissime prospettive come Lucca, su cui è stato fatto un investimento veramente importante, quindi io non vedo grandi punti deboli nel Pisa se non il fatto da parte nostra di continuare a lavorare su quella che è la nostra identità e sul limare quelle cose che sappiamo di dover limare, vedi qualche errore tecnico in meno rispetto alla partita di Benevento perché nonostante il Benevento secondo me sia squadra di livello veramente molto alto, in parecchi dei gol c'è un errore grossolano da parte nostra che ha innescato e dato la possibilità al Benevento di far gol, quindi a capire che in questa categoria i dettagli sono importanti e di conseguenza l'attenzione dovrà essere massimale perché rispetto alla Serie C quando sbagli in questa categoria nella maggior parte delle volte paghi. Massimo Decino le chiede, che Pisa si aspetta visto che D'Angelo è sempre stato un contore del 3-5-2 ma domenica ha giocato a 4 e col trequattista dietro le punte? Ma è normale che il Pisa ha avuto più modi di giocare, nell'ultima partita ha giocato con una difesa a 4, con tre centrocampisti, con Sibilli dietro l'unica punta e con Marsura aperto sulla riga, quindi questa è la fisionomia delle ultime gare. Poi è normale che ogni allenatore è libero di poter cambiare anche la settimana precedente ad una partita e noi dovremmo essere pronti nel caso in cui loro dovessero cambiare, però io credo che il Pisa manterrà il suo modo di giocare consueto nelle ultime gare. Altre domande? Minma? E poi Mari. Mi sapevo dove mi è che a Benevento comunque c'erano 50 tifosi, credo che ce ne saranno di più a Pisa o venerdì, ma in generale che effetto ha fatto a lei e alla squadra ritrovare in uno standard, o seppur grande come era vigorito, con la gente, cioè sentire la gente vicino, come mancava di fatto, perché l'Ainfanzia aveva visto tutta con i play-off, ma mancava da tantissimo tempo. Sicuramente è un gran bel effetto, noi ringraziamo tutte le persone, tutti i nostri tifosi che ci hanno seguito a Benevento, ma sono sicuro anche quelli che ci hanno seguito da casa. In questa stagione io credo che il popolo grigio possa essere davvero un'arma importante per noi, anzi mi piacerebbe proprio che entrassero tutti nell'ottica di dover sostenere questa Alessandria, di godersi davvero tutti quanti insieme questa categoria dalla prima giornata come è stato fino all'ultima, per cercare di raggiungere questo obiettivo tutti insieme, perché secondo me il Moccagatta deve diventare per noi un fortino importante dove la spinta dei nostri tifosi dovrà essere un valore aggiunto per tutti. Mario? Sì, senta, mister, noi l'abbiamo ormai conosciuta, apprezzata e sappiamo che lei è un grande motivatore, quindi ricapitolando, lei prima ha parlato di una partita Benevento contro una squadra che praticamente è il diritto che l'anno scorso era in Serie A, allora quando possiamo pensare che possa incominciare veramente il campionato dell'Alessandria, capace di esprimere quelle che sono le sue potenzialità a questa squadra, già da Pisa allora? No, io credo che il campionato dell'Alessandria sia già cominciato dal primo giorno di ritiro, noi non stiamo facendo nessuna prova, non stiamo pensando che il campionato debba ancora iniziare assolutamente, questo sarebbe una cosa tragica per il nostro pensiero, per il nostro modo di pensare. Ok, quindi stavo dicendo che il nostro campionato è cominciato nel primo giorno di ritiro, sarebbe secondo me un problema grave il pensare di non averlo ancora iniziato, quindi anzi la squadra sta iniziando a scaricare a terra tutte le proprie potenzialità, infatti secondo me al di là del fatto che il risultato non ci ha premiato, però sono arrivate tre prestazioni all'altezza, perché parlo di tre prestazioni, perché parlo di gare ufficiali, perché il passaggio del turno con il Padua, secondo me con la Sampdoria ci siamo andati vicino, ma ci siamo giocati una gara comunque combattuta viso aperto e allo stesso tempo anche a Benevento, nonostante il fatto che il risultato non sia venuto, io credo che l'Alessandria abbia dimostrato di poter stare in questa categoria, di avere le armi per poter mettere in difficoltà chiunque, naturalmente al netto di limare tutte quelle dinamiche che sappiamo di dover mettere dentro. Bene, se ci sono altre domande, Mimmo ancora una domanda, prego. Ecco, come dice a me, ha detto quindi il recupero di disponibilità che sono a disposizione Lunetta e Mandovanini e magari un minutaggio superiore di qualcuno oppure no? Ma è normale che man mano che passano i giorni il minutaggio di chi ha bisogno di lavorare sicuramente può migliorare, però purtroppo questa è una settimana corta dalla partita di Benevento, praticamente ci sono stati due allenamenti e di conseguenza non è che si può fare chissà che cosa in quel pochissimo tempo, quindi io credo che dopo la sosta il minutaggio di quelli che sono arrivati potrà essere un minutaggio più consistente, la loro condizione potrà migliorare in maniera più corposa. Oggi dobbiamo fare di necessità virtù e cercare assolutamente di dargli continuità, di cercare di fargli trovare la condizione anche a volte facendo scampoli di partita o mettendo dentro del minutaggio, ma soprattutto centellinarli nella maniera giusta evitando anche qualsiasi tipo di problematica. Bene, se non abbiamo altri interventi concludiamo qui la conferenza stampa e ci rivediamo dopo la partita di Pisa. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a voi. Grazie.